Mi sembra un sistema interessante anche perché bisogna andare verso l'industrializzazione dell'edilizia, delle murature, possiamo continuare a mettere mattoni e poi fare in modo più o meno tradizionale. Io però lo guardo dal punto di vista come progettista e direttore dei lavori, bisogna vedere anche l'altro aspetto dell'impresa, quindi pratico della realizzazione e dei costi. Probabilmente il discorso che velocizza la realizzazione dell'opera può essere interessante per quando c'è un'esigenza economica importante. Essenzialmente la modularità è la possibilità di ottimizzare i tempi di lavorazione in cantiere e l'opportunità anche di migliorare il progetto in termini qualitativi, quindi mi riferisco in particolar modo ai seti portanti, la possibilità anche di ottimizzare, migliorare una pianta e renderla appetibile sul mercato in termini proprio di possibilità di vendita, specialmente in questi momenti di difficoltà economica. In più, la fattibilità è quindi l'opportunità di risparmiare in tempistiche di cantiere e quindi si può dire ottimizzare anche il cronoprogramma di lavoro in modo tale da destinare con tempi certi e sicuri la mano d'opera, le squadre di lavoro e poter poi rivolgersi magari ad altre realizzazioni. Dal mio punto di vista personale e lavorativo, quello che facciamo noi in cantiere, il sistema BravoBlock mi è sembrato un sistema abbastanza innovativo, soprattutto dal punto di vista del vantaggio, dal punto di vista dei costi e del tempo che si risparmia con la posa in opera, è la cosa che più noi andiamo a guardare. Dal punto di vista più pratico, la cosa che più ci ha colpito è il sistema Evolution, perché è un sistema che nella somma delle varie stratigrafie che si fanno comunque in cantiere, è un sistema che secondo noi veramente ci può far risparmiare tempo nella posa. Il prodotto per come è stato presentato mi sembra un buon equilibrio tra qualità delle costruzioni e costo, perché adesso bisogna fare delle costruzioni comunque con tutte le normative che ci sono, ci sono dei vincoli da rispettare e non indifferenti e con le tecnologie che abbiamo adesso c'è un grosso dispendio di soldi e il prezzo di mercato cala, quindi non c'è un giusto riscontro. Per quanto abbiamo visto si riuscirebbe a risparmiare soprattutto sul prezzo, sulla mano d'opera. Sarei curiosa di vedere dei costruttori che l'hanno già adottato per poi eventualmente in un futuro poterlo anche pubblicizzare, usare? Secondo me è valido ma a livello di costruzioni grandi, quindi nell'ottica di una costruzione che implichi almeno 20 alloggi. Il taglio potrebbe essere quello di una casa di 20 alloggi, ripeto, col sistema unico, quindi murature e solai accoppiati. Interessante, ma il primo impatto, devo dire come ho detto, è quello di vedere dei blocchi in una cantina o in un box, quindi poi dopo uno scopre effettivamente il progetto. Sicuramente è un sistema innovativo, avevo più o meno già visto la presentazione attraverso l'invito che era arrivato, quindi conoscevo il funzionamento. Sicuramente innovativo, sarei curioso di provarlo in pratica in cantiere per capire effettivamente se gli indici, i parametri comunque di snellezza, sia in termini di costi e soprattutto di tempo, sono effettivamente così ragguardevoli rispetto al sistema tradizionale. Lei ha un'impresa? Ho un'impresa, in realtà non facciamo costruzioni, facciamo principalmente restauro, manutenzioni, ristrutturazioni, però lavoriamo ovviamente sia sul patrimonio privato, ma soprattutto il tuo pubblico, quindi in appalto. Se effettivamente i numeri sono quelli che ci sono stati proposti, secondo me potrebbe essere un materiale, o meglio un progetto, che può prendere il piede in questo paese che ne ha sicuramente bisogno. Sicuramente la semplicità e la praticità nella posa e la modularità, la possibilità di risolvere tutti i nodi in modo semplice e con una soluzione un po' flessibile. diciamo flessibile, infatti, sicuramente la semplicità di posa e la modularità e quindi la possibilità di risolvere tutti i nodi costruttivi in modo flessibile. Grazie a tutti.